105! 105! 105! 105! Mattia Bevilacqua! Mattia Bevilacqua al coronamento di un buon periodo di forma questa vittoria. Sì, come ho detto era un periodo che stavo pedalando abbastanza bene. Vengo da un buon periodo di forma, oggi sapevo che poteva essere una bella corsa che adatta alle mie caratteristiche. Ho retto sull'ultimo strappo e giù un po' in discesa grazie ai miei compagni hanno tenuto la corsa chiusa e in volata ce l'ho fatta. 105! 105! Mattia Bevilacqua! Ringglar Spendenck! Ringglar Spend emergli fissa! Mersi! Salut!